Codice rosso, novità e criticità. È stato questo il tema di un importante convegno che si è tenuto presso la struttura della scuola di formazione Forense di via Lussemburgo a Santa Maria Capo Vetere. L'evento, organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati, è stato inserito nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne e ha visto avvicentarsi importanti relatori. Forte e toccante la prima parte dell'evento moderata dalla giornalista del mattino Marilu Musso con l'intervento della signora Maria Teresa Giglio, madre di Diziana Cantone, la ragazza che si suicidò dopo la diffusione sul web di alcuni suoi video pornografici amatoriali. A margine dei lavori abbiamo sentito il Presidente del Comitato Pari Opportunità Olimpia Rubino e pregarei la regia di mandare in onta l'intervista. Perché di questa giornata? Perché gli avvocati scendono proprio in questa giornata così importante per le donne? Che significato ha questo momento per voi? Sì, è un momento sicuramente di particolare interesse e di sensibilità rispetto al fenomeno della violenza di genere. Oggi abbiamo voluto come Comitato Pari Opportunità organizzare un convegno proprio per stigmatizzare le luci e le ombre della legge 69 del 2019, il cosiddetto Codice Rosso che ha creato una corsia preferenziale a tutela delle vittime di violenza e quindi vittime di violenza di genere. A tal proposito abbiamo voluto far coincidere questo convegno con una data particolarmente significativa che è quella del 25 novembre, una data che ricorda degli eventi spiacevoli che si sono verificati nella Repubblica Dominicana quando vennero ucciso le tre sorelle Mirabal, le quali si erano ribellate e supprusi del dittatore che nel 1961 venne poi ucciso. Noi riteniamo opportuno come Comitato e anche in virtù delle funzioni che sono proprie del Comitato stigmatizzare qualsivoglia condotta violenta e riteniamo che questa giornata sia necessaria affinché noi tutti possiamo prendere coscienza del fenomeno della violenza di genere e possiamo in qualche modo agire attraverso una campagna di sensibilizzazione. Tant'è che oggi molteplici sono le iniziative attraverso le quali il Comitato ha voluto rimarcare questa profonda lotta contro la violenza di genere, quale l'installazione della panchina rossa in sinergia con l'amministrazione comunale sanmaritana. Ancora avremo la testimonianza da qui a breve della madre della signora Tiziana Cantone, purtroppo di una donna ovviamente scomparsa a seguito di condotte spiacevoli posti in essere nei suoi confronti, con riferimento alle quali poi il legislatore ha ritenuto anche di introdurre una nuova fattispecie delittuosa nel nostro ordinamento che appunto è la fattispecie del revenge porn. Avremo la proiezione di un video dove saranno messi in onda tutta una serie di foto che evidenziano la violenza sulle donne, i segni che tale violenza può determinare sulle donne, sino ad aggiungere ad un vero e proprio convegno formativo al quale seguirà un dibattito per stigmatizzare la problematica della violenza e per far sì che si possa in qualche modo riprimere qualsivoglia forma di condotta violente e quindi affinché si possa parlare della violenza nei confronti delle donne come un fenomeno appartenente al passato e quindi non più come un fenomeno presente e tanto meno come un fenomeno appartenente al futuro. Da Santa Maria a Capovetere è tutto, Fortuna Natale per casertasera.it